benvenuti nel canale filati da sogno io sono marina questa volta andremo a realizzare il cappottino che voi vedete in questo momento adesso faccio vedere come rimane quindi avete visto come l'ho indossato lei e gaia bravissima gaia luna viene amore e adesso c'è anche luna indosserà anche luna vedete io praticamente lo inserisco dalla testa così bravissima amore lo faccio passare sul corpo e poi lo abbottono di lato ovviamente sotto io adesso non lo metto perché altrimenti pensano che vedete la pancia come ben coperta altrimenti pensano di dover uscire no già così dicono beh ma com'è che mi state vestendo che devo restare in casa invece no comunque sotto ci andrà la pettorina ok dal buchino perché ce ne sono vari buchini passerà il gancio della pettorina quindi non dovranno essere vestite la pettorina sopra il cappottino orsettino ma bensì andrà sotto e quindi è molto molto comodo caldissimo la pancina è molto adesso adesso le sto praticamente le sto dando vedete dei premietti per poter stare qui altrimenti andrebbero via e adesso andremo a fare proprio questo qui che quello che andrà ad una principessina pelosetta quindi un orsettino per la nostra brigitte che è il cagnolino di di mio figlio e della sua compagna e una bimba ed ecco il suo orsettino benedita andiamo a farlo insieme a dopo andiamo a vedere cosa ci occorre ovviamente un filato coccoloso io ho utilizzato il panda e per mostrarvi cosa io ho preso un lotto acquistato un lotto dai 6 arna vi lascio il link sotto questo video quindi nel box informazioni trovate tutto e con un lotto dove praticamente ci sono 400 grammi in un lotto io ho realizzato il l'orsetto per luna dopo video la misura e l'orsetto per gaia quindi luna è un pochino più e mi sono avanzati circa 200 grammi diciamo che per gaia che la più piccolina ho utilizzato 150 chiedo scusa 100 grammi ok quindi 80 metri per quella per la gaia che è proprio la più piccolina ok per luna ho utilizzato invece un gomitolo intero quindi 100 grammi io penso 120 grammi ecco un pochino di più un pochino di più tant'è che mi sono avanzati questi due gomitoli o circa avrò avrò circa non so penso di avere un 150 160 170 grammi di filato e me ne avanzeranno perché adesso devo crearne un altro e tra l'altro questi li ho già utilizzati a una cosa e si lavano tranquillamente in lavatrice non ci sono problemi io l'ho già fatto l'anno scorso per gaia e luna l'ho realizzato in lilla ed è quello che utilizzano abitualmente adesso è da poco che ho realizzato gli orsetti rosa per tutti e due e quindi lo potete lavare tranquillamente in lavatrice ovviamente a freddo nonostante i bottoni nonostante tutto allora i bottoni più vi serviranno anche dei bottoni e i bottoni più comodi sono questi non certamente i bottoni gioiello che andrò a togliere a gaia perché fastidioso perché da questa parte è cucito il bottone quindi non si può sganciare invece da questa parte qui sì perché ovviamente entrerà da in questo modo e poi glielo aggancio sopra la pancina ok questa è la schiena ok per farvi capire è così questa è la pancia e la pancia di luna perché questa è di luna e questa è la schiena ho messo il bottone gioiello così tanto per perché mi piaceva da uno dei dei forellini perché ce ne sono tanti qui passa il il gancio del del collarino lei usa la pettorina io a loro metto la pettorina quindi da qui rimane agganciata faccio passare i due anellini della pettorina e le aggancio quindi una comodità estrema a farvi veramente facilissimo lo faremo insieme nel giro di poche ore viene realizzato poi si va veloce perché insomma è piuttosto spesso anche come filato no e se c'è un errore neanche lo si nota quindi quello che vi serve è un filato coccoloso come questo poi dei bottoni se volete un qualcosa un fiocchetto un qualcosa da mettere qui al collo il collo come noterete io sotto lo lascio aperto in modo tale che non costringa troppo né luna né gaia scusatemi ma ci sono l'ha messo quindi sono in muta quindi qualche pelino lo si potrà vedere tramite la telecamera e quindi quello che andiamo a fare adesso e realizzare un altro cappottino a non vi ho dato le misure che poi non c'entra niente io solo per darvi l'idea di quello che ho utilizzato perché ovviamente ognuno di voi avrà il suo cagnolino le mie sono due chihuahua ognuno avrà e vedete che già ci sono due misure differenti inoltre a gaia e luna perché gaia è proprio piccola mentre luna è già più grande bella paffutella quindi sono due misure diverse noi lo faremo su misura per il nostro cagnolino ok allora teniamo conto di una cosa e le mie sono due femmine quindi io quello che vado a fare e proteggere coprire la loro pancina se dovesse essere maschio a parte che lo vedrete voi stessi no dovete ovviamente fare un panciotto molto più alto proprio per il fatto che un maschietto ok io sto parlando adesso di femminucce di femminucce anche perché insomma è un pellicciotto secondo me molto femminile questo vero a me sembra molto femminile questo è il pellicciotto di luna che lungo 37 centimetri di lunghezza ha un collo alto 6 centimetri e un panciotto di 28 ok e questa è luna gaia invece la piccolina qui devo ancora mettere qui devo cambiare i bottoni quindi questo non ve lo consiglio perché proprio è fastidioso da togliere quindi assolutamente no però da mettere qui sì perché dimane carino allora abbiamo un 28 centimetri di lunghezza un collo più basso di circa 3 centimetri e il panciotto di 26 circa queste sono le misure delle mie cagnoline adesso vado a fare il l'orsettino per brigitte una meraviglia nuovo nuova adozione a casa di mio figlio stupenda meravigliosa se riesco vi metterò la foto e voglio farle e una cucciolina ancora è molto molto piccola sicuramente poi questo non lo metterà più vedremo di donarlo poi a chi potrà potrà invece metterlo quando perderà la taglia e quindi voglio farlo per brigitte mentre lo faccio per brigitte registro la questo orsettino magari potrebbe interessare a qualcuno di voi quindi partiamo a l'uncinetto allora l'uncinetto vorrei provare con il 5 e mezzo o con il 5 adesso vediamo vediamo un attimino non ricordo con cosa mi sembra con il 5 e mezzo però adesso provo solo un attimo no va benissimo anche il 5 allora l'uncinetto adatto alla vostra mano ok provate provate un attimino a fare qualche catenella per vedere come vi scorre addirittura qui consigliano il 7 però io preferirei non farlo troppo con un uncinetto troppo ampio perché visto e considerato che e sono tutte maglie alte poi vedete già così il anno interessano questi buchi proprio per far passare no anche gli anellini della pettorina o i bottoncini capito quindi hanno interessano però che non siano dei fori troppo ampi altrimenti si vedono partiamo dal collo ok semplicemente dal collo state tranquille perché veramente semplice ciò che noi dobbiamo fare è una catenella che serva per l'altezza del nostro collo ok stiamo per fare questo quindi l'altezza del nostro collo allora io ho tra l'altro brigitte non ce l'ho qui con me la cosa bella sarebbe poter avere il proprio il proprio cucciolino qui cioè proprio qui per poter glielo misurare io però ho notato che ha più o meno la taglia di gaia e quindi sto sulla misura di gaia lo provo gaia per brigitte ok quindi andiamo a fare tra l'altro lavorare questo filato non servono due sensi non solo la vista ma anche il tatto perché dobbiamo sentire dove inserire l'uncinetto ecco questo potrebbe essere un po fastidioso per le principianti però provate con me provate con me e vediamo se riesco a farvi capire come fare allora innanzitutto fate una catenella normalmente ok come normalmente fareste quindi e la fate dell'altezza che vi interessa io la faccio con quattro catenelle quindi è sufficiente come altezza poi tiro su vedete questa sono le catenelle 1 1 2 3 e 4 si vedono vedete ora io tengo ferma la quarta catenella e vado su con 3 catenelle per praticamente è la mia prima maglia alta scendo di una catenella quindi praticamente 1 2 3 4 nella quinta catenella entro col mio uncinetto e faccio una maglia alta e ne abbiamo già due 1 e 1 2 adesso vado nella terza catenella e faccio la mia terza maglia alta e l'ultima maglia alta vediamo un po con 4 io faccio anche la quinta quindi regolatevi un attimo ok io adesso ho fatto 1 2 3 4 5 praticamente o 5 maglie alte e con 5 maglie alte vi dico anche con 5 maglie alte avrò un'altezza di circa 5 centimetri circa perché poi da qui dobbiamo partire con il corpo allora quindi il primo giro l'abbiamo fatto io in questo momento ho 5 maglie alte e le sento con le dita non le vedo ma le sento quindi 1 2 3 4 e 5 provate a sentirlo con le dita e le li vedreste proprio da sopra se voi notate potete vedere la catenella questa è la prima la seconda la terza la quarta e la quinta però più che altro dovete sentirla voi sotto le mani tiriamo su 3 catenelle giriamo il lavoro adesso ecco è qui il senso del tatto questa è la prima e qui abbiamo la prima che una sopra l'altra questa è la seconda e io devo andare sulla seconda a fare la mia maglia alta quindi entro proprio nella secco sopra la seconda maglia alta e faccio una maglia alta questa è la terza vedete lo dovete sentire sotto le dita io purtroppo non riesco a farvelo vedere cioè più che farvi così ecco questa è la quarta quindi sopra la quarta farò una maglia alta e la quinta perché l'effetto di questo filato è veramente un orsettino è proprio un orsettino quindi abbiamo fatto il secondo giro come vedete diventa proprio una pelliccia cioè non si nota non si nota proprio che fatto ad uncinetto tiriamo su 3 catenelle ricordate usate il tatto ok perché qui purtroppo a vista si potete vedere da qui la catenella mai più facile col tatto quindi io la prima maglia alta poi sapete quante maglie alte avete quindi non potete sbagliarvi basta contare questa è la prima andiamo nella seconda e facciamo la seconda maglia alta nella terza quindi questa è la seconda questa è la terza qui maglia alta la quarta e qui vedete in mezzo tra le mie dita qui la sentite se voi mettete le dita riuscite proprio a sentirla e questa è la quinta io so di averne 5 e ho già fatto la mia 1 2 e terzo giro andiamo su con 3 catenelle giriamo il lavoro questa è per la prima questa è la seconda maglia alta dovete fare una maglia alta su ogni maglia alta di base 1 2 ne abbiamo già fatte 2 3 4 e nell'ultima 5 tirate su di nuovo 1 2 3 catenelle girate il lavoro siamo nella prima vedete qui c'è la seconda quindi entrò proprio nella testa della seconda e sono due nella testa della terza e sono 3 4 e 5 e ecco qui c'è poco da farvi vedere praticamente andiamo avanti a fare questa striscetta di 5 maglie alte per quanto riguarda il collo di brigitte sono 5 maglie alte e andate avanti fino a raggiungere la circonferenza del collo della vostra bimba o bimbo peloso ok quindi andiamo a raggiungere la misura del collo io in questo caso di brigitte ecco qua io ho fatto il mio collo il collo come avete visto con 5 maglie alte sono andata avanti per la lunghezza di io lo sto misurando gaia speriamo che vada bene anche a brigitte perché non vive con me ma con mio figlio e 31 cm praticamente ho fatto la circonferenza del collo di gaia quindi adesso che cosa facciamo voi arrivate quindi al alla circonferenza del collo del vostro cagnolino e poi che puoi dire cagnolino non mi piace comunque bimbo peloso quando siamo arrivati a questo punto voi prendete vedete i due lati noi abbiamo l'uncinetto da questa parte andiamo a congiungere e bloccare cerchiamo di trovare la catenella no del primo giro inseriamo la testa vedete dove sono vero aspettate ve lo faccio vedere meglio allora questo è il collo da una parte all'altra io l'uncinetto da questa parte qui ho la parte opposta del mio collo io entro in una catenella del dell'altra parte del collo prendo il filo e blocco in modo tale che il collo si chiuda sotto ma rimanga aperto sopra poi se volete e se lo preferite potete poi cucire questa parte così il collo rimane chiuso ok rimane chiuso in questa maniera qua io invece lo lascerò aperto anche per brigitte poi abbiamo adesso siamo a questo punto ora con le dita sentiamo la maglia alta che era messa noi l'abbiamo lavorata così adesso sentiamo il corpo della maglia alta sotto il nostro dito innanzitutto tiriamo su 3 catenelle ed è la nostra prima maglia alta che va proprio nel diciamo nel corpo di questa maglia che potete solo sentire con il tatto ok ma non si vede entriamo nel corpo della prima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta quindi in poche parole ragazze guardate vedete qui c'è un buco poi qui c'è c'è la maglia e qui c'è l'altro buco e qui c'è l'altro buco e qui c'è l'altro buco praticamente voi dove vedete dove dove sentite il buco dovrete fare o due maglie alte quindi proprio in quei buchini di dobbiamo fare le maglie alte quindi noi nel primo buchino abbiamo le 3 catenelle più facciamo una maglia alta passiamo nel buchino successivo e facciamo due maglie alte nello stesso buchino ok poi qui vedete c'è questo corpo più rigido che è la base delle maglie alte e qui c'è un altro buchino e andiamo qui e facciamo due maglie alte quindi due maglie alte in ogni buchino che voi sentite sotto le dita attenzione a non potete andare qui no per forza di cose e buchino successivo quindi sono proprio solo due maglie alte in ogni spazio che sentite successivo a quello che avete lavorato e lo potete solo sentire perché per vederlo dovete proprio fare come sto facendo io vedete qui quindi due maglie alte in ogni spazio qui qui solo due maglie alte dentro ogni spazio e andate avanti così per tutta la circonferenza arrivati alla fine del nostro giro lo vedete perché vedete si vede che qui a parte che siamo proprio nel centro ma si vede che questa parte più alta quello che noi dobbiamo andare a fare normalmente conteremo 1 2 e 3 catenelle ma qui è difficile da contare quindi diciamo che andiamo a inserire la testa dell'uncinetto nella parte più alta della prima catenella quindi più o meno qua più o meno è perché dovrebbe essere giusto e lo contro le rete difatti è giusto vedete deve essere piatto quando ci siamo congiunti con una maglia bassissima ripartiamo con le 3 catenelle e quindi abbiamo la nostra maglia alta che sopra questa maglia alta ora non dobbiamo fare altro guardate in ogni buco voi fate una maglia alta quindi qui nel primo buchino una maglia alta nel secondo una maglia alta nel terzo vedete non potete sbagliarvi andare nell'altro perché se fate questo lo senti vedete che bucone rimane quindi impossibile sbagliare poi semplicemente sentite questo il buchino dove ho appena lavorato successivamente ce n'è un altro quindi vado nel buchino successivo e faccio una maglia alta nel buchino maglia alta e continua così per tutto quanto in giro come vedete è veramente semplice qui stiamo facendo praticamente la parte sotto al collo usate il tatto e mi raccomando non solo la vista ma il tatto quindi dove sentite il buchino sapete che dovete fare la maglia alta fate tutto il secondo giro del nostro sottocollo e ci ritroviamo sono arrivata alla fine del secondo giro dopo il colletto faccio la stessa cosa questa è la prima che ho avviato con le 3 catenelle vado proprio sopra alla prima maglia alta cercate di andare a tastoni cercate di inserire la testa dell'uncinetto e poi prendete il filo e passatelo nella solina con maglia bassissima abbiamo chiuso qua mi sa che ho lasciato una maglia ah no 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 era giustissimo quindi rifaccio tutto eccolo qua ecco allora adesso io ripeto non ho brigitte sotto mano e quindi devo andare con il cappottino di gaia non posso provarvelo brigitte leggermente più piccolina di gaia quindi io mi fermo qui con il sottocollo il sottocollo e quella parte dove qui partono le zampette quindi adesso voi cosa andate a fare provatelo in questa maniera no questo qui rimane sotto ok e questo è diciamo il la schiena della vostra bimba pelosa ok questa è la schiena e questo dove c'è l'apertura è proprio nel petto diciamo sotto nella gola qui sotto vicino al petto ok quindi provatela e vedete se siete arrivati all'altezza dell'inizio delle zampette proprio all'inizio delle zampette se non siete arrivati non dovete far altro che fare un giro in più due giri in più insomma arrivate al punto in cui possiamo iniziare a dividere il lavoro perché lo dividiamo perché adesso come vi farò vedere io taglio perché sono nella parte qui centrale quindi non mi interessa questa parte devo chiuderla taglio il filo perché sono arrivata alla mia misura ok poi prendo due spille da balia mi metto non dove c'è l'apertura perché la parte sotto questa è la parte sopra e proprio più o meno cerco la metà quindi questa è l'apertura questa è la metà del corpino io vado a mettermi lateralmente una spilla da balia qui si è una dalla parte opposta ecco qua così abbiamo la metà del nostro orsettino perfetto quando abbiamo trovato la metà quindi voi siete arrivati alla misura diciamo dell'inizio della zampa anteriore quella davanti ok quindi l'avete provato avete visto che l'avete ci siamo come come misura provo a vedere se riesco a misurare la gaia per farvi vedere dove dovete fermarvi ecco allora provo a farvi vedere vedete la zampina dove inizia qui ecco voi dovete fermarvi proprio a questo a questa altezza qua ok quindi l'apertura del collo è qui sotto ciao gaia e qui abbiamo messo le spille da balia vedete le zampette anteriori ci sono proprio arrivata perfettamente vediamo se riesco a farvela vedere un pochino meglio ciao gaia grazie grazie per farla fotomodella ecco siamo arrivati comunque nella parte dove dobbiamo dividere il lavoro grazie gaia più o meno sono riuscita a farvi capire dove dovete fermarvi quindi quando siete arrivati perché se non ci siete ancora quella misura allora questo punto fate semplicemente dei giri in più ok esattamente come vi ho mostrato poi abbiamo diviso il nostro corpetto a metà come vi ho fatto vedere e dove abbiamo il marca punto il segno punto marca punto andiamo a inserire il nostro uncinetto prendiamo il filo e ripartiamo con 3 catenelle quindi 1 2 e 3 che la nostra prima maglia alta ora andiamo nel buchino successivo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima ma solo da marca p da segna punto a segna punto quindi cercate i buchini inserite l'uncinetto e fate delle maglie alte però soltanto da segna punto a segna punto ok è stata brava gaia è di una dolcezza incredibile qui ok arriviamo al segna punto ecco è arrivati al segna punto opposto facciamo l'altra maglia alta l'ultima maglia alta quindi io ho lavorato da segna punto a segna punto adesso tiro su 3 catenelle giro il lavoro perché non lavoriamo più in tondo ma solo in andata e ritorno vedete che volendo si vedono anche da qui vedete però io preferisco sentirla al tatto questa qui fa parte di questa io passo decisamente nel buco dopo e faccio la mia maglia alta quindi non sto neanche a guardare vado a tastoni così quindi continuiamo a fare la stessa cosa quindi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante e penso che bastino già un paio di giri e poi andiamo a diminuire allora questa l'ho lavorata qui quindi mi va qui è un lavoro dipende poi dalla dalla grandezza dalla taglia no della vostra piccolina però diciamo o piccolino è perché perché no cioè io ho detto che l'orsetto è più indicato per per una femminuccia ma preso un colore adatto va benissimo anche per un maschietto farete poi il panciotto un pochino più corto e il gioco è fatto ok sto arrivando dall'altra parte vedete che io lavoro non guardando questa catenella sopra ma semplicemente entrando dentro un buchino ok allora adesso bisognerebbe ricontrollare di nuovo ma io vado più o meno d'occhio io direi che faccio ancora un giro poi inizio a stringere no a stringere per andare man mano a ridurre l'ampiezza potete andare anche dritti è però diventa un rettangolo io preferisco poi man mano scendere per arrotondarlo un pochino quindi faccio ancora un giro quindi tirate su se siete se dovete continuare come me tirate su ancora 3 catenelle e rifate di nuovo lo stesso giro quindi io vado qua quindi di nuovo una maglia alta in ogni forellino ci troviamo a fine giro ecco io ho finito il mio terzo giro quindi 1 2 e 3 giri e sono vedete forse di qua ve lo faccio vedere meglio ok ho finito il mio terzo giro e io sono già pronta per iniziare a diminuire quindi tiro su 3 catenelle come sempre però adesso la seconda e la penultima maglia la lavoro in questo modo allora questa l'abbiamo lavorata entro nella prima e lavoro le prime due asoline della maglia alta quindi questo è lavorata scusate qua allora le prime due e tengo vedete che ne ho sull'uncinetto ne ho due poi di nuovo entro nella successiva e lavoro 2 maglie e 2 asoline quindi adesso ho la prima solina più le altre due questa non l'avevo chiusa e questa non l'ho chiusa chiudendo le tutte e tre insieme io ho diminuito una maglia andiamo avanti così questa l'ho lavorata andiamo avanti adesso fino ad arrivare dall'altra parte come sempre abbiamo fatto quindi una maglia alta in ogni buchino che troviamo quindi nel buchino successivo a quello lavorato questo è il mio quarto giro è questo questo ok fate attenzione allora questo è l'ultimo 1 e 2 quindi nella terza ultimo buchino vi fermate 1 1 2 e 3 allora quindi 1 2 e 3 nel terzo ultimo buchino fate una maglia alta incompleta quindi vedete che abbiamo le tre asoline no quindi così chiudiamo solo due asoline ne teniamo una andiamo nel buchino successivo chiudiamo due asoline e ne abbiamo tre chiudiamo tutto insieme andiamo nell'ultimo spazio e facciamo la maglia alta giriamo il lavoro 3 catenelle per iniziare sempre adesso questa è la prima andiamo a cercare il secondo buchino e questo quindi entriamo e facciamo una maglia alta incompleta il terzo buchino entriamo facciamo una maglia alta incompleta e chiudiamo tutto insieme quindi abbiamo diminuito un'altra volta nel buchino successivo una maglia alta voi che potete provarlo al vostro piccolo o la vostra piccolina e continuate a provarlo per capire quante volte dovete diminuire allora e poi nella terza quindi 1 2 e 3 quindi ancora da lavorare questa e poi nella terza ultima entro lavoro solo metà della maglia alta entro e lavoro metà della maglia alta chiudo tutto insieme e faccio l'ultima maglia alta vediamo come stiamo andando vedete inizia a rimpicciolirsi allora qui sta alla lunghezza della del boss della vostra cagnolina della vostra bimba pelosa più è lunga e meno dovete essere e meno diminuzioni dovete fare così vicine cioè potete fare queste diminuzioni solo sul sul davanti e non sul dietro io per esempio adesso le ho fatte subito sia sul davanti che sul dietro adesso che sono sul dietro non faccio più diminuzioni per il momento ok quindi farò solo un giro di maglie alte semplicissime poi quando sono di nuovo sul dritto diminuisco di nuovo quindi a seconda della misura e qua a seconda della lunghezza perché ogni cagnolino guardate non ce n'è uno come noi no non siamo uguali anzi siamo tutte per fortuna una diversa dall'altra ogni cagnolino alla sua lunghezza quindi dal proprio dal collo all'inizio della codina sono tutte diverse quindi dovete capire voi quante volte dovete diminuire come fate a capirlo semplicemente provandolo voi glielo provate allora qui glielo provate e a quel punto vedete se state andando bene come diminuzioni allora io so che brigitte è molto più corta di gaia molto insomma molto no però è più corta di gaia però adesso non diminuisco più per qualche giro perché altrimenti diventa troppo corto ok quindi cercate di stabilire quante diminuzioni dovete fare se vi rendete conto che avete già stretto abbastanza smettete di diminuire e andate avanti per trovare la vostra lunghezza ok quindi se per poi qualcosa non va basta semplicemente scucire un paio di giri che ci va in un attimo li recuperate ok io per il momento continua a non a non stringere non fare diminuzioni quindi lavoro il giro semplicemente con una maglia alta in ogni spazio sottostante quindi con il criterio che vi ho mostrato cioè ovviamente provandolo sempre no provando sempre l'orsettino alla vostra piccola o il vostro piccolino a siamo riusciti ad arrivare più o meno alla misura stabilita quindi io vado avanti ancora qualche giro ho diminuito ancora una volta quindi ho diminuito come avete visto subito poi man mano lavorandolo così nei buchini piano piano comunque diminuisce anche lui di suo e poi ho diminuito ancora una volta e adesso ma ripeto dobbiamo andare avanti con la misura del vostro cagnolino ok quindi non posso qui non posso fare nient'altro che farvi vedere come si diminuisce e e dirvi di andare avanti per tutta la lunghezza io vado avanti ancora un paio di giri senza diminuire e poi a quel punto inizio inizio a fare le ultime diminuzioni quelle proprio che mi danno l'arrotondamento finale ok quindi poi vi mostrerò come arrotondo in basso semplicemente diminuendo diminuendo repentinamente una volta dietro l'altra fino al punto che rimangono pochi punti da lavorare ok è molto semplice proprio è veramente quasi banale no se vogliamo semplicemente dovete però usare il tatto per lavorare in questo modo e più che la vista e provarlo e cercare di adattarlo facendo le diminuzioni non seguendo me ma seguendo il corpo del vostro cagnolino ecco vado avanti poi vi faccio vedere quando diminuiscono nell'ultima parte ecco adesso io sono arrivata proprio alla misura che mi serve per stringere quindi vado a arrotondare un pochino di più semplicemente come vi ho già mostrato quindi vado a fare la prima maglia alta con le mie 3 catenelle poi nel buchino successivo lavoro metà maglia alta nel successivo ancora lavoro metà della maglia alta e mi ritrovo sull'uncinetto 3 asoline chiudo tutte e tre insieme e poi lavoro una maglia alta in ogni buchino successivo lo sentite così quando arriviamo ad avere c'è ancora uno sicuro questo è lavorato qui uno due e tre buchini vado nel terzo ultimo e lavoro metà della maglia alte tengo la solina vado nel penultimo buchino lavoro metà maglia alta chiudo tutto insieme e entro nell'ultimo buchino per fare la mia maglia alta la stessa cosa la faccio adesso quindi anche sul rovescio tiro su le 3 catenelle poi nel buchino successivo qui entro e faccio metà della mia maglia alta nel buchino successivo entro e faccio metà della la mia maglia alta o tre asoline chiudo tutto insieme e lavoro le altre maglie normalmente più che le altre maglie buchini più che le maglie alte ok adesso bisogna solo fare attenzione perché qui abbiamo fatto già una diminuzione potrebbe confonderci no qui è il primo questa è la diminuzione l'ho sentito sotto le dita perché più cicciottino quindi 1 2 e 3 allora qui entro nel terzo ultimo chiudo metà della maglia alta entro nel penultimo chiudo e o tre asoline chiudo tutto insieme nell'ultimo spazio faccio una maglia alta mi tocca diminuire ancora quindi rifaccio la stessa cosa finché non arrivo alla fine 1 2 3 alla fine vuol dire poi alla codina ok allora questa è la chiusura quindi la chiedo scusa alla diminuzione che ho fatto sotto quindi io vado dopo la diminuzione in questo caso e faccio metà maglia alta nella successiva metà maglia alta e chiudo tutto insieme allora questa è lavorata questa no e quindi le altre le lavoro normalmente vediamo se ci sono già allora qui c'è la diminuzione quindi andiamo qui ho già 1 1 2 e 3 perfetto dovete proprio sentirlo e dovete avere questa pazienza di sentirlo sotto le dita 1 2 e 3 perfetto qui la maglia alta in completa qui maglia alta in completa o le tre asoline che chiudo tutto insieme questa è l'ultima maglia alta chiudiamo la blocchiamo ecco quando vedete un buco un po troppo grande ecco cercate magari di pareggiare ecco e poi rientrate qua cioè cercate di fare in modo che non si notino troppo i buchini io direi che ci sono tanto poi se ci sono delle imperfezioni le sistemiamo con l'ultimo giro allora io direi che come lunghezza ci sono come ampezza di collo anche perfetto ecco io faccio finta di averlo provato su brigitte ok invece non è così ma faccio finta allora posso tagliare il filo io sono arrivata alla mia lunghezza chiudo ok poi dicevo appunto si può sempre migliorare eventualmente ci fossero degli errori e quindi si notasse un pochino troppo facendo un giro di maglie basse tutte intorno tanto non si nota nulla con questo guardate che cos'è cioè con questo filato è veramente incredibile allora adesso abbiamo fatto la parte sulla schiena dobbiamo fare la il panciotto quindi la parte sotto questa qua questa questa qui escono le zampine ok quindi andiamo a vedere più o meno dove la metà ed è qui e anche a occhio perché io più o meno adesso io direi che parto così quindi a occhio o col centimetro se voi siete più precisine di me io vado più o meno occhio così ho fatto con gli altri quindi a occhio cercate di delimitare una misura che sia anche più corta anche più stretta direi qui ecco una misura che possa andar bene come parte iniziale per poter poi andare sotto la pancia ok quindi io prenderei circa per le mie piccoline un 5 cm vediamo quanto preso non ne ho preso di più facciamone un po di più quindi allarghiamo lo di uno e allora lo largo anche di qua ok così quanto siamo vediamo così siamo perché poi si va molto occhio ecco sono sette centimetri direi che posso partire in questa maniera quindi a filo nuovo più o meno siamo al centro dei due marca punti parto dal marca punto ho scelto quanti centimetri praticamente qui siamo sotto il collo è quanti centimetri ho voluto sotto il mio collo e parto con i miei tre con le mie 3 catenelle a questo punto devo fare una maglia alta come al solito in ogni buchino che trovo poi tutti quei fili vanno tutti nascosti nascosti per bene allora qua e qua e l'ultimo qua vediamo quante maglie sono riuscite a fare allora 1 2 3 4 5 6 e 7 ok ho sette maglie tiro su 3 catenelle e proseguo con il secondo giro da solo sette maglie quindi 1 2 3 4 5 6 adesso inizio ad allargare sì allora avendo fatto solo due giri con solo due giri adesso inizio ad allargare e come faccio innanzitutto facciamo le 3 catenelle giriamo il nostro lavoro e ora nella stessa maglia ne facciamo due quindi da dove abbiamo tirato sulla catenella rientro nella stessa e faccio un'altra maglia alta e quindi ne ho due poi vado in quella successiva e sono tre 4 5 6 6 7 7 ne faccio un'altra nell'ultima quindi ne ho due di qua e due di là quindi ne ho due 3 4 5 6 7 8 e 9 quindi ho 9 maglie alte prima ne avevo 7 quindi ne ho aumentate di aumentate 2 ora 3 catenelle giro il lavoro stessa cosa nella stessa maglia alta quindi dove abbiamo fatto le catenelle tiriamo su una maglia alta e quindi ho due e poi facciamo una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare all'ultima dove invece ne faremo due dove invece ne faremo due questa nell'ultima ne facciamo due 1 1 e 1 2 perfetto allora come vedete inizia ad aumentare anche qui ho bisogno che voi adesso continuiamo ad aumentare ovviamente ma dipende moltissimo da quanto dovete aumentare dipende moltissimo dal vostro cagnolino quindi può darsi che il dovete aumentare perché al panciotto più grande quindi ogni giro sia davanti che di dietro dovete aumentare come anche può darsi che dovete aumentare solo sul davanti e non sul dietro per rallentare gli aumenti mentre andate avanti ok oppure può darsi che aumenterete solamente ogni tre giri quindi fate un giro no l'altro giro no e il terzo giro aumentate dipende da voi lì dovete solo guardare continuare a provare man mano vedere dove siete arrivate vi faccio solo vedere una cosa allora qui siamo partiti come abbiamo come siamo partiti insieme adesso lo stiamo aumentando che stiamo aumentando e questa parte deve poi andare sopra guardate vedete questa parte è questa che stiamo facendo questa è lo spazio che poi ci sarà per le zampine e la parte che crescerà deve andare diciamo lateralmente qui c'è la schiena lateralmente qui è bloccato proprio cucito questa parte l'ho cucita e gli ho messo un bottone gioiello finto che devo togliere perché ripeto dall'altra parte invece non è un bottone gioiello finto ma in realtà è vero quindi c'è di qui che lei entra ok ecco aspettate allora è di qui che lei entra quindi io glielo inserisco qui vedete questo è quello che dovete fare quindi dovete andare sulla schiena ma lateralmente può essere anche un po più su se volete ok da una parte lo bloccheremo mentre dall'altra metteremo un bottone dove poterci agganciare ok quello quindi che adesso dovete fare è quello di aumentare ma in base alla dimensione alla diciamo alla circonferenza della pancina della vostra piccola quando io ho finito il mio vi mostro bene ci siamo lasciate più o meno a questa altezza io ho continuato ad aumentare ai lati sia andando che tornando una maglia e una maglia quindi ho lavorato due maglie alla fine due maglie all'inizio e ho diciamo fatto una specie di triangolo ok questa è la partenza del nostro collo ripeto che potete chiudere o lasciare aperto come ho deciso di fare io e poi ho formato questo diciamo triangolo allora ora ora vi mostro una cosa se per caso il vostro è un maschetto e volete fare un orsetto per il maschetto ovviamente dovete tenerlo un po più su ok proprio per il fatto che è un maschetto quindi vi toccherà fare molti più aumenti non solo due e due noi abbiamo aumentato una maglia una maglia no quindi abbiamo lavorato due magliette da una parte due maglie alte dall'altra a questo punto lavorerete tre maglie alte e tre maglie alte ok in modo tale che si apra subito e in modo tale da voi da avere a metà diciamo torace avere già la chiusura giusta la misura giusta per poter poi poi dipende sempre dalla vostra misura certo vedete quello che noi dobbiamo andare a fare è questo avere una parte sufficiente che mi vada sul lato e lo bloccheremo con un con un bottone qualsiasi bottone va bene e dall'altra parte qui proprio io lo cucirò quindi la parte sinistra io sono abituata a cucirla la parte destra invece metteremo un bottone che si toglierà e che si metterà ecco come consiglio e l'ho ripetuto anche già metà tutorial non mettete bottoni gioiello da utilizzare proprio come bottone perché antipatico proprio da far passare ok deve essere una cosa pratica a mio parere il bottone gioiello invece va bene messo sul collo ok proprio sul collo è bellino proprio bellino bellino da vedere mentre un bottone normalissimo andrà bene per poter agevolmente vedete sbottonare e ri abbottonare non abbiamo fatto l'asola perché i buchini vedete ce ne sono a fare a furia e poi quando trovate il punto giusto voi allargate un pochino e ci sarà la vostra la vostra asolina questo è quello più grande cosa ecco questo è quello che mi è rimasto vedete quindi con neanche 100 grammi l'ho fatto quindi mi avanza ancora del filato magari gli posso fare un pompon adesso vediamo che cosa farò con quello che avanzato ora quello che ci toccherà fare io purtroppo non posso provarlo non posso proprio provarlo l'ho provato a gaia e va bene per lei quindi non posso provarlo a brigitte ma spero vada mal che vada sposterò poi il bottone se non va bene come ampiezza ok quindi quello che andiamo a fare innanzitutto e togliere tutti questi fili qua quindi dobbiamo andarli a nascondere per avere un lavoro pulito quindi ci occorre un ago da lana e andiamo a nascondere i nostri fili abbiamo bisogno di un ago con diciamo una bella asola perché è difficile da inserire nel nel buchino e poi semplicemente andiamo a nascondere il filo passatelo bene perché tenete conto che è un capo che andremo a lavare più volte io lo lavo molto spesso perché le mie sono proprio basse quindi sporcano il capottino non dico un giorno se un giorno no ma quasi quindi lo lavo molto molto spesso ecco che se non agganciamo bene i fili è facile che poi piano piano vengano fuori ok quindi cercate di fare in modo di chiuderlo bene ecco di fare in modo che questi fili si vedano poco cioè più che si vede perché non si vede niente spero che siano ben cuciti all'interno quando siete sicuri di aver cucito bene tagliate e ricominciate per tutti i fili che abbiamo vedete io ne ho veramente tanti allora una cosa prima di tagliare però questo filo se volete fare un giro di maglie basse tutte intorno vedete le maglie basse potete fare tutte intorno qui fino a fare il giro proprio del capo potete tranquillamente farlo è semplicemente delle maglie basse una maglia bassa su ogni maglia che trovate ok io non lo faccio perché mi sembra che vada benissimo quindi non non voglio peccare di presunzione però mi sembra sia venuto molto bene quindi non ho problemi di sorta però vedete volendo uno può fare anche solamente un giro di maglie basse per regolarizzare magari la se c'è una scaletta qui che è un pochino zigo zago con la maglia bassa uniformate un pochino ok io ripeto questo non lo faccio mi sembra un giro in più e quindi non non lo faccio in questo caso quindi io taglio il mio filo e sarà un altro filo da cucire e vabbè ok metto dentro tutti i fili e ci ritroviamo ciò che occorre adesso è una decorazione per il colletto sempre se vogliamo metterla due bottoni io ho preso questi di madreperla ago e filo tutto qui partiamo con il lato il lato sinistro vedete questo è il corpo questo è il diciamo il panciottino che abbiamo fatto cerchiamo di metterlo in modo tale che sia dritto cioè parallelo e poi blocchiamo voi potete provarlo io purtroppo no quindi devo andare ad occhio io lo blocco la parte sinistra la blocco totalmente quindi metterò su il bottone aspettate che blocco anche il filo metto su il bottone e poi dopo blocco proprio il bottone direttamente con le due parti ok sia la parte sopra che la parte sotto del mio orsettino vedete che sto prendendo tutte e due le parti ok quindi questa è la parte che rimarrà chiusa la parte destra invece è quella che voglio che rimanga aperta in modo tale che io possa chiuderla indossarlo con con scioltezza sempre se riesco a trovare il buchino ok comunque sia blocco il bottone torno penso che ho assicurato il bottone io cosa faccio passo anche nella parte vedete in queste parti in modo tale proprio che non si possa aprire quindi i bordi li sto cucendo ok in modo tale che non non possa forzare e poi aprirsi non che si apre il bottone ma che faccia una falsa piega qui vedete così rimane più fisso dopo che ho fatto questo metto in sicurezza il mio filo che sarta provetta io proprio con lago non sono un granché però me la cavo per quel poco che devo fare me la cavo ok fatto questo via e il primo bottone l'abbiamo messo ora dobbiamo mettere quello mobile vedete rimarrà così quello mobile quindi il bottone va messo qui e dove lo aggancio l'asola sarà questa chiedo scusa il bottone lo metteremo sul corpo e l'asola sarà sul panciotto ok in questa maniera rimarrà poi chiuso io lo metto a questa altezza esatto controllate che sia nel punto giusto più o meno è questa l'altezza qui e vado a cucire il mio bottone solo il bottone ovviamente ok perché questo sarà il bottone che deve deve poi chiudere tutto adesso vi spiego meglio finisco solamente qui dicevo e il bottone che servirà proprio per la chiusura del mio capottino perché brigitte passerà da qui qui ci sarà la testina qui escono le zampine e da qui ovviamente devo chiuderlo quindi adesso formerò una solina ecco trovato il mio buchino me l'allargo un pochettino ed ecco fatto la mia chiusura è già fatta vedete io direi che proprio carina 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 vedete quello che vi dicevo allora questa è la schiena questa è la schiena questa è il panciotto qui ci sono le zampine qui escono le zampine quindi è talmente leggero perché cosa sono neanche 100 grammi qui di filato è talmente leggero che non lo sentono e poi morbidissimo il collo non l'ho neanche chiuso in modo tale che non dia fastidio nelle zampe non dà fastidio comodissimo da smontare vedete e oltretutto in questa maniera io cosa faccio come ho già detto durante il tutorial poi qui metterò una decorazione come ho già detto durante il tutorial perché mi sa che io metto comunque il bottone gioiello poi durante il lavaggio se per caso questo si rovina basta semplicemente toglierlo e ne metto un altro quindi cioè per un po almeno ce l'avranno e e la cosa che a me piace è il fatto che a parte che sta calda la pancina e questa è la cosa principale ma che io ho visto prima gaia e luna per esempio con la pettorina poi metto il capottino semplicemente sganciandolo da questa parte e faccio passare le due asoline della della pettorina di qua le aggancio e loro rimangono sempre vestite anche se sono dentro un centro commerciale non devo spogliarle non devo togliere il la pettorina per spogliarle capito eventualmente posso togliere il cappottino senza se rimane comunque la pettorina su di essa chissà se mi sono spiegata comunque sia io mi trovo benissimo spero che vi sia piaciuto anche a voi ora non so se la finirò con con un bottone così un bottone gioiello o anche questo qui mi sembra carino non lo so secondo me metterò questo adesso poi vediamo intanto io vi saluto vi ringrazio di avermi seguita anche in questo breve tutorial non so a quante potrà interessare fatemelo sapere se è una cosa utile anche per voi vi mando un abbraccio e al prossimo tutorial perché è a breve a breve inizierò a registrare il nuovo tutorial quindi aspettatemi mi raccomando e se non siete registrata ecco soprattutto questo se non siete registrata al mio canale registratevi mi aiuterete a crescere in questo modo non vi costa nulla e a me farebbe tanto tanto piacere ok a prestissimo con il prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti